E ne abbiamo capito la lavo e riuscite a accadere. Volevamo capire come mai la scelta per lei come imprenditore di acquistare una compagnia aerea? Poco da capire, a volte uno ha 60 anni e una cavolata la può fare, perché sono stati in cuti nel lino a martello. Ma le posso dire una cosa? 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 L'aereo è un teatro di posa. Si vola e vola al cinema e vola a Mediaset e voli anche lei. Buonasera. Se lei seguita, le faccio una bella querela. No, stiamo semplicemente chiedendo come mai il Presidente. Non è vero, non è vero. Non è vero che si è dato un bonus di 200 mila euro? No, 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 perché era stato segnato, poi non l'ho preso mai. Lei dice solo cazzare, lo dica, lei è un bugiardo. E poi canta a me viva variale, ecco e do. Non mi dica la cosa, però. Però ecco, con le do. Diamo un titolo a una canzone. Andiamo a 100 all'ora per cantare la serenata. E se la ricorda? Ye 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 ye, gol, gol, gol. Ecco variale, arrivedo. La salutiamo. Buonasera, Presidente Ferrero. Buonasera. Buonasera. Dai, raccogliamoci in un minuto di silenzio. No, perché? Raccogliamolo, dai. No, ma... Dov'è? Eh? Ti è caduto qui? Ma cosa? No, 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 cosa? Qualcuno ha detto raccogliamolo. Lei? Nega me lo sono immaginato. L'ha detto lei raccogliamolo. Me lo raccogli tu, che a me fa male la schiena. No, ma l'ha detto lei. Comunque, un minuto di silenzio per cosa? Non l'hai saputo? No, no, no. Nella notizia che ha fatto il giro del mondo, purtroppo sono morto. No, guardi, non è possibile. Ilaria, non piangere. Ah, questa è una... No, ma no, ma no. Come cantava Bobby Sola, una lacrima sul tra. Non è così la canzone, però non può essere. Chi sei, San Pietro? No, non sono San Pietro. No, non credo. C'è la chiave? Ma che la si sa? Dai, chiaviamolo. No, 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 ma la prego. Mi senti? Sì, la sento, la sento. Parliamo di sport. Eh? Che... Eh? E se fischio, mi senti? Non... Sì, però, senta, guardi, lei non è morto adesso, no? Non... Se ricorda quel film? Sì. Ma dai, il capolavoro. Sì, guardi. Quello con i quattro cosi che c'ha la macchina e che fanno delle cose. Eh? Chi? Dai, gli ingroppa fantasmi. Acchiappa fantasmi, ma gli cosi... Ma tracci stare, non... Io ormai... Sì. Sono così. Accettami. Ma noi l'accettiamo... Mi manco tanto. Sì, ma guardi, allora, non è possibile che sia morto. È qui, lei è qui, guardi. Ero tanto buono, facevo la cioccolata, lo sapevi? Io l'ho scoperto dai giornali, polvere ero, polvere... Mareciallo è polvere, giuro. Allora, aspetta, no, perché ha fatto una... Allora, Ferrero è un altro... Allora, no, prego, stiamo seri. Allora, è un altro Ferrero, quello era il produttore della Nutella. È lui, che purtroppo non c'è più, certo. Beh, allora è una straccia, vogliono colpire i Ferreri. Ma no, no, perché... No, lei è... Ma non fanno paura. Guardi che... Giussi Ferreri era tanto buona. Ed è viva, è viva, lasci stare, allora. È Ferrero il patron della Nutella. Allora, io sono vivo? Sì. Sei sicuro? Sì. Non è come quel film, se lo ricorda? Non lo so. Ma, dai. Il sesto senso unico. Ma che unico? Non c'è unico. Quello che cercava di fare in versione, oh, ma non si svolta mai. Beh, dai, capo lavoro. Ma possiamo parlare di sport e di calcio? Me la fate dirtela una cosa? No, dirla. Si vuole dirla, sì. Dai, diciamola, godiamocela. Sì. Mi viene in mente quel grande film, La vita è... Bella. Grazie. Anche tu sei carino. No, La vita è bella. La prego. Ma guardi che ci sono... Mi fa male il braccio. Ah. Ma non ricordo quale. Vabbè. Allora, senta, no. Invece parliamo del Milan, no? Crede che Berlusconi accetterà la proposta di B, il, sai, il broker tailandese, no? Ah, tailandese, è tipo un filippino solo che ha più zampe, no? No, no, non hanno le zampe. No, allora, per favore. Dai, dobbiamo dare messaggi che non siano... Ma tu a Sanremo... Eh. No, ma non c'entra... Parliamo di sport. Ma tu a Sanremo non eri vestito da donna? No. Non c'avevi la barba. No, no, no. Tasa è tagliata. Beh, dai, tagliamolo. Solo la barba, limitiamolo, dai. Allora, quella è con città Wurst, non sono io. No, però, a proposito, perché anche lei è stato a Sanremo, eh? Reduce dai successi di Sanremo, sì. Ma dai qualcosa per i reduci. Ma no, ma lasci stare, non ho niente. Beh, dai, Sanremo è città bagnata dall'Equatore. No. Mi senti sul collo se sussurata? No, non ho voglia. Sento uno spiffero. Eh, beh, guardi. Beh, si riconiamola, dai. Lasciamo stare, sì. E' verde. Cosa? Ecco. Dobbiamo passare. Ma no, no, ma... Aspetta, guarda prima a destra. Allora, non c'è, no, ma non c'è nessun semaforo. Parliamo di calcio, la prego. La Sampdoria, no, che non sta andando benissimo. Beh, volevo tranquillizzare il nostro amato Sianusa Milanovic. Sianusa Milanovic. Al cuore grande. Sì. E il tuo cuore è per sempre giucerchiato. Blu. Blu cerchiato. Che darbi, beh, dai, cavolo a voi. Sì. Abbiamo vinto uno a uno. Una partita un po' lunga. E' pareggio. Un po' lunga la partita. Ma che lunga. Cominciata sabato, finita martedì, molti tempi morti. Ma no, allora no. Sabato è stata sospesa per pioggia, martedì l'hanno giocata, è successo questo. Scusa un attimo. Sì, cosa fa? Non potremmo parlare di sport? Pronto? Sì. Ah, e tu? Compriamolo, dai. Ma è già vostro. Un paio d'etti. È già vostro. Tutto no, dai. Poi ci va male. È già vostro. L'aveva già comprare. Ma perché? Cosa fa? Cos'è? iPhone. No, ma guardi, va prego. Ti è piaciuta? Ma dai, sono voi. I suoi tifosi vorrebbero anche parlare di... Poi diceva Coso, se lo ricorda Coso, quello che ha scritto quel libro, che io ce l'ho a casa, mi accompagni a casa. No, non l'accompagno, se riuscisse a parlare... A me i vigili mi hanno levato la patente perché fanno collezioni di patenti famose, guarda. Non importa, no, senta. Allora, parliamo invece delle intercettazioni di Lotito, no? Perché, allora, i vertici del calcio, ma si fanno condizionare dai presidenti dei club, secondo me, visto quello che... Beh, io lo posso verbargli alla Nagosa? Vuole dirle una cosa? Me lo fate dirla, Gia? Sì. Il grande Claudio Lotrito... Lo Tito, lo Tito. Non fuciliamolo, dai, non demonizziamo. Ma no, 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 no. Allo Tito non gli facciamo un pro, un pro... Cesso. Beh, mo' perché mi vedi così, ma da giovane ero bello. No, ma non si può. Andrea Zalone! Andrea Zalone!